Con l'arrivo della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, fare un ripasso di ciò che è accaduto in precedenza direi che è proprio necessario ragazzi. La prima stagione infatti è uscita ben due anni fa, mentre dal film è passato un annetto. Insomma, di carne al fuoco ce n'è e per capire al meglio la seconda stagione ecco a voi il riassuntone del film Zero e della prima stagione di Jujutsu Kaisen. La storia di Jujutsu Kaisen inizia con Itadori Yuji, studente delle superiori che riceve una richiesta dal nonno in punto di morte. Deve usare la sua incredibile forza fisica e le sue abilità per fare il bene degli altri. Questa strana richiesta da parte dell'anziano e la promessa di Yuji che si impegnerà effettivamente a realizzare ciò, trovano però un inaspettato riscontro poche sere dopo presso il liceo del ragazzo. Un certo Megumi Fushiguro, studente della Jujutsu Hai, arriva qui infatti in cerca di un oggetto maledetto, una delle dita di Sukuna in grado di potenziare le maledizioni circostanti. Megumi si ritrova qui dunque a combattere con le maledizioni che minacciano Yuji e i suoi amici, ma ricordandosi le parole del nonno, ecco che anche Yuji si unisce effettivamente alla battaglia mangiando il dito di Sukuna e venendo così posseduto da questo spirito estremamente malvagio, spirito che Megumi cerca quindi di esorcizzare senza successo perché è troppo potente, fino all'arrivo di Gojo che mette KO Sukuna permettendo a Yuji di riprendere il controllo del proprio corpo. Itadori viene così condotto presso l'Accademia delle Arti Occulte, dove scopre che gli anziani vogliono giustiziarlo e lo hanno in realtà anche già condannato a morte, in quanto vassallo di Sukuna. Gojo ammette però di essere riuscito a prender tempo proponendo di far mangiare tutte le 20 dita di Sukuna a Yuji, così da poter esorcizzare infine la maledizione una volta e per tutte. Hanno qui inizio così le vicende di Itadori alla Jujutsu Ai. Da ora il ragazzo si allenerà per riuscire a contenere il potere e per aiutare, nel frattempo, le persone affette da maledizioni. Nella prima missione ecco dunque entrare in scena insieme a Itadori e Megumi anche Nobara, l'obiettivo dei tre è addentrarsi in un edificio zeppo di maledizioni ed esorcizzarle sotto la guida del professor Gojo. Durante la missione Nobara sta per sacrificarsi per salvare un bambino, ma Yuji li salva entrambi, per poi passare così alla seconda importantissima missione per la storia dei tre ragazzi. Un mese dopo Yuji, Megumi e Nobara ricevono infatti l'incarico di esorcizzare le maledizioni presenti in un centro di detenzione, ma ciò porterà alla morte di uno di loro. La prigione si mostra infatti come un vero e proprio incubo, con i detenuti massacrati da questa terribile maledizione. Durante lo scontro Yuji riesce a far prendere il controllo a Sukuna per salvare i due amici e questo non solo sconfigge la maledizione, ma mangia anche il terzo dito del corpo originale. Yuji però viene qui preso in ostaggio. Sukuna toglie infatti il cuore dal corpo del ragazzo che, qualora dovesse riprendere il controllo, morirà in un istante. Megumi cerca qui quindi di affrontare il demone senza successo, ma Itadori riprende il controllo morendo dissanguato. Sukuna, prima di sparire, ammette però di essere estremamente interessato a Megumi. Cosa vorrà dire? Megumi e Nobara, tornati alla Jujutsu Ai, incontrano gli alunni degli anni successivi, ovvero Panda, Maki e Inumaki. Gli studenti devono prepararsi per l'imminente scambio con la scuola gemellata di Kyoto. Nel frattempo, in un locale sperduto tra le vie di Tokyo, Jogo, Dagon e Anami collaborano con l'umano Geto per catturare Gojo e per arrivare a Yuji. Quest'ultimo infatti si risveglia nel reame spirituale di Sukuna e i loro destini sembrano più intrecciati che mai. Sukuna fa qui infatti un accordo con Yuji, obbligandolo di fatto, a permettere alla maledizione di prendere il controllo del suo corpo portandolo però in vita con un nuovo cuore. Nel minuto nel quale Sukuna può prendere il controllo del corpo di Tadori, però, questo non può far male ai suoi amici. Qui Yuji si sveglia dunque senza alcun ricordo di tale patto e Gojo decide, per ora, di tenere segreta la sua risurrezione, decidendo anche di allenarlo per sfruttare al meglio il suo potenziale. Durante gli allenamenti però ha inizio il piano di Geto, con le entrate in scena di gioco che ingaggia a battaglia con Gojo, senza però riuscire a combinare nulla. Gojo spiega qui infatti il suo potere principale in quanto stregone, ovvero quello dell'infinito. Gojo agisce dunque sullo spazio aumentando la distanza tra lui e il suo avversario. diventando immune agli attacchi nemici. La battaglia termina dunque con la decisione di Gojo di mostrare l'utilizzo dell'espansione del dominio a Yuji, obliterando Jogo, che però viene recuperato da Anami, che raggiunge gli altri che iniziano effettivamente a ragionare seriamente adesso sull'imprigionamento di Gojo e sul liberare Sukuna nel mondo. Mentre Nombara e Megumi conoscono gli studenti che dovranno affrontare tra qualche mese, Gojo si reca così a Kyoto. Per incontrare il preside della Jujutsuai della città, fornendogli le informazioni in suo possesso su Jogo e Sukuna e parlandogli di studenti dal potenziale senza precedenti, introducendo per la prima volta anche un certo Yuta. Tempo dopo, tra le vie di Tokyo, Maito fa la conoscenza di Junpei Yoshino, che gli chiede di insegnargli a manipolare l'energia malefica. Il tutto mentre Nanami e Yuji, messi insieme da Gojo, indagano sugli spiriti maledetti che stanno mettendo a soccuadro la città. Yuji qui inizia a mostrare il frutto dei suoi allenamenti e il tutto porta infine allo scontro con Maito dopo che questo trasforma Junpei in un mostro. Junpei qui dunque muore davanti agli occhi di Yuji, che dà il via alla battaglia, colpendo sia il corpo che l'anima del nemico. Nanami si unisce qui alla battaglia venendo imprigionato nel dominio di Maito, ma venendo anche aiutato da Yuji. Infine, però, Maito riesce nonostante tutto a scappare, tornando da Geto e gli altri che portano avanti il piano di liberazione e di rinascita di Sukuna con l'obiettivo prossimo di assalire direttamente la Jujutsuai. Nel frattempo torniamo dunque proprio all'accademia, dove Gojo rivela infine che Yuji è vivo e che parteciperà alla battaglia contro gli studenti di Kyoto, sebbene ci sia il sospetto che questi vogliano uccidere il ragazzo. Il sospetto, infatti, si rivela fondato all'inizio dello scontro, ma fortunatamente prima della battaglia Nomara, Megumi e gli studenti del secondo anno avevano già organizzato il piano di difesa, iniziando così a disperdere gli studenti di Kyoto e lasciando Yuji a combattere contro Todo, che non vuole ucciderlo ma bensì stringere una vera amicizia. Durante le battaglie abbiamo modo dunque di vedere per la prima volta Panda in azione, in possesso di tre personalità che può cambiare in base alla necessità, e Maki che si confronta con sua sorella. Se tutto sembra procedere, tra tante virgolette, nella norma, però, è qui che ha inizio l'attacco organizzato da Geto e gli altri, con l'arrivo di Anami, uno spirito maledetto estremamente potente, che isola i professori fuori dal campo di battaglia. Gli studenti di Kyoto e Tokyo uniscono così le forze, ma è solo l'arrivo di Yuji e Todo a cambiare le sorti della situazione, ingaggiando uno scontro senza precedenti, mentre Gojo riesce a rilasciare il suo potere per aiutare i suoi ragazzi. Occupati dalla battaglia all'accademia, però, nessuno nota che Maito ottiene una delle vita di Sukuna, dimostrando come quell'attacco in realtà era solo una distrazione per permetter loro di entrare in contatto con il vero potere di Sukuna stesso. Anami riesce infine a sopravvivere all'attacco di Gojo, scappando così verso Geto e Jogo. La prima stagione si conclude infine con nuove indagini da parte di Yuji, Nobara e Megumi, il quale si ritroverà infine a scontrarsi contro una maledizione di rango speciale, attivando l'espansione del dominio, mentre anche Nobara riesce ad annientare i suoi avversari, dimostrando di aver raggiunto una forza senza pari. Si trattava qui in particolare di due dei tre grembi maledetti, nati da uno spirito maledetto e un essere umano, ed entrati subito nella categoria di livello speciale per la loro incredibile forza. Jujutsu Kaisen Zero racconta invece la storia di Yuta, e si pone come prequel a ciò che noi vediamo effettivamente nella prima stagione. Yuta è qui un liceale perennemente bullizzato e preso in custodia dalla Jujutsu Society, dopo che i bulli sono stati massacrati a morte in circostanze misteriose. Gojo però interviene salvando il ragazzo e facendolo diventare uno studente dell'accademia. Qui scopriamo che la maledizione in suo possesso è Rika, una cara amica di infanzia morta in un incidente diventando uno spirito protettore. All'accademia Yuta conosce così i Maki, Panda e i Numaki, che il ragazzo riesce a salvare evocando Ruka di propria iniziativa per la prima volta. Durante una missione Yuta e i Numaki vengono però attaccati da una maledizione di livello speciale creata da Ghetto, che qui scopriamo essere un vecchio compagno di Accademia di Gojo, nonché suo vecchio amico. Ghetto scopriamo qui anche che era stato espulso per aver ucciso numerosi innocenti e a seguito di tale evento ha fondato anche un culto con l'obiettivo di assorbire l'energia malefica delle persone. Ghetto cerca qui di far passare Yuta dalla sua parte con l'obiettivo di assorbire Rika, ma a rifiuto da parte del ragazzo ha inizio la battaglia finale, nella quale Yuta propone di sacrificare se stesso per rilasciare il massimo potenziale di Rika per sterminare Ghetto. Ghetto esce dalla battaglia così estremamente ferito, venendo poi eliminato tra tante virgolette, perché sappiamo che torna, da Gojo stesso. Yuta in tutto ciò ha lasciato Rika e inizia così un viaggio per allenarsi lungo tutto il Giappone. Termina così il nostro riassunto di Jujutsu Kaisen 0 e della prima stagione di Jujutsu Kaisen. Fatemi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate in particolare oggi di Jujutsu Kaisen, se siete in pari con il manga, se siete in pari con l'anime, e noi ci rivediamo come sempre alla prossima. Grazie a tutti.